Cosa consiglia oggi Penny? Penny consiglia orecchiette mozzarella e patè di olime. In una ciotola mettete i pomodorini tagliati in quattro, aggiungete i capperi, il basilico e l'olio e mescolate bene. Unite la mozzarella tagliata a dadini e il patè. Aggiustate di sale e di pepe e mettete tutto in frigo ad insaporirsi, minimo 20 minuti. Cuocete le orecchiette in abbondante acqua salata, scolatele e conditeli con la salsa preparata. Servite se volete con l'aggiunta di un pochino di pepe.